salve a tutti bene meno male meno male che vi risolvo questi problemi legati all'hardware sempre tutti io li devo risolvere i casini degli altri vero quindi sì ho risolto il problema della ghiera dell'aria dell'expromiser v3 e quindi questo accessorio sarà disponibile va bene dopo pochi giorni dalla chiusura del vpitali sarà disponibile nelle migliori fiere qua per esempio la fiera la fanno il benedì no sono gli stand c'è quello della frutta quello dei tessuti quello che vende banane e c'è quello che vende gli accessori per l'expromiser v3 solo quello però ecco come ho risolto una soluzione semplice ma finora vero non ce aveva pensato mai nessuno un bel nastrino mettiamo un bel nastrino al nostro questo è un nastrino attenzione che di polisucato di titanuro di sodio è polisucato di titanuro di sodio costa un sacco di soldi perfetto scusate whatsapp perfetto un tiro mtl questo sarà a breve disponibile 15 euro e ringraziatemi da oggi chiamatemi modder che bella la sigaretta elettronica ma soprattutto e oggi ve lo dico così scusate telegram ci vediamo dopo domani al de pittali